Asia Nuccetelli dopo la crisi, ritorno sui social? La confessione Asia Nuccetelli ritorna sui social? L'annuncio su Instagram. . Dopo la recente crisi che avrebbe investito Asia Nuccetelli, e che l'avrebbe costretta ad allontanarsi un po' dai suoi amati social network, la figlia di Antonella Mosetti ha stupito tutti tramite una dichiarazione veramente importante. . Asia Nuccetelli ha infatti caricato sulle sue Instagram Stories una foto interamente nera, e sulla quale ha dichiarato che stava pensando di ritornare su Instagram. . Inoltre, la giovane Mosetti ha voluto ringraziare tutti i suoi fan che l'hanno sempre sostenuta durante questa settimana di crisi, sottolineando il piacere che ha avuto nel leggere tutti i messaggi di affetto che i suoi followers le avevano inviato in privato. . Inoltre, Asia ha concluso il discorso con una sua perla di saggezza, la Nuccetelli ha affermato che noi siamo umani e la vita ci mette sempre a dura prova, ma la cosa importante è riuscire a superare queste prove, e lei sembrerebbe esserci riuscita. . Ancora sono sconosciute le motivazioni che hanno obbligato Asia a prendersi questo periodo di pausa dai social, anche se molto probabilmente la ragazza ha voluto disintossicarsi da Instagram a causa delle numerose critiche ha ricevuto recentemente nel medesimo social. Asia Nuccetelli e la sua confessione, il ritorno sui social è vicino. Asia Nuccetelli era stata infatti molte volte criticata per via dei suoi ritocchi, tanto che molti l'avevano addirittura paragonata a Loredana Lecciso. Asia Nuccetelli Asia Nuccetelli in un primo momento aveva quindi deciso di ignorare tale cattiverie togliendo la possibilità ai suoi fan di commentare le sue foto, e poi aveva preso di seguito la decisione di togliersi per un po' da Instagram. . Asia inoltre è sempre sulle Instagram Stories aveva affermato di avere intenzione di staccare un po' la spina dai social per godersi appiene i rapporti umani e non solo quelli virtuali. . La figlia della Musetti è attualmente fidanzata insieme al rapper Vaine, e anche per trascorrere più momenti con lui avrebbe deciso di spegnere per alcuni giorni la telecamera del telefonino. . Asia è comunque pronta a ritornare, dopo la breve crisi che aveva lei stessa affermato sui social. . . . . . . . . .